Musica Seconda edizione di Oratg, ben trovati. Apriamo dunque con la politica subito a Palermo, a Lars, l'Assemblea regionale siciliana che ha clamorosamente bocciato con un voto segreto un emendamento di riscrittura dell'articolo 1 della legge cosiddetta salva ineleggibile emendamento presentato dal gruppo di Fratelli d'Italia. Si contano 10, chiamiamoli franchi tiratori, all'interno del centro-destra che hanno di fatto bocciato questo DDL, maggioranza in frantumi, così parla l'opposizione, maggioranza che è riunita nelle varie stanze per cercare di capire il da farsi, ma si parla davvero di attimi particolarmente concitati. Maggioranza spaccata a Lars, nel corso della seduta di oggi è stato bocciato con voto segreto il disegno di legge salva ineleggibili presentato da Fratelli d'Italia. La norma ha ricevuto 34 voti contrari su 30 favorevoli. In aula era presente anche il presidente della regione siciliana, Renato Schifani. Il DDL aveva l'obiettivo di salvare il posto in aula a quei deputati dichiarati ineleggibili in base a sentenze del Tribunale di primo grado. I parlamentari del partito della Meloni minacciano ora di far slittare la riforma delle province che prevede la reintroduzione del voto diretto per gli organi di governo di città metropolitane e liberi consorsi, uno dei punti del programma di governo del presidente Schifani. Avvisaglie di crisi che, secondo il leader di Sud di Chiamanord, Cateno De Luca, ospite stasera alle 20.30 della nostra trasmissione dell'intervista, si aprirà ufficialmente subito dopo le europee di giugno e porterà ad elezioni anticipate. Ricordatevi il papete dopo le europee del 2019 e mettete in conto che ci potrebbe essere la stessa assunzione di posizione in base alle risultanze delle europee. Io vedo ogni giorno più logro il centrodestra, anche perché a Cuccia prima o poi si strappa. Scalda i motori il sindaco di Itaormina che ha come obiettivo la presidenza della regione e detta l'agenda ai possibili nuovi compagni di viaggio, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Io non sono un uomo di compromessi a ribasso. Questo l'ho dimostrato già quando ho detto no al centrodestra per fare il loro candidato alla presidenza della regione e quindi di oggi potevo tranquillamente essere qui e parlare da presidente della regione. Ho detto no perché i compromessi con coloro che ho sempre combattuto non sono disponibili a sottoscriverli. Vale anche per i nuovi compagni di viaggio. O si fa un passo avanti o non è che io devo rinunciare alla mia identità e soprattutto anche a quella che è la visione di buona amministrazione perché bisogna andare a trattare con l'ultima correntina che è solo per motivi non si sa di quale natura dice no a un'eventuale progettualità comune. Ecco ognuno a casa propria si sistemi le dinamiche interne perché questo sia chiaro. Io non entro nei tritacarne di nessuno. Se questo riusciranno a farlo, bene, si farà un percorso che io ho già in mente e che ho cominciato anche a comunicare le primarie di coalizione ampia non si faranno l'ultimo secondo possibilmente qualche anno prima oppure due anni prima perché poi attraverso quel risultato con una giunta che si va a individuare prima si farà il progetto di cambiamento per la Sicilia e quindi non si arriva a sei mesi dalle elezioni con l'impressione che siamo un'accozzaia anche perché io non sono disponibile a fare l'accozzaia con nessuno solo perché bisogna vincere. Si vince dall'indomani. L'intervista integrale al leader di Sud di Chiamanord De Luca collegato in diretta anche il collega di ADN Cronos Francesco Bianco stasera dopo il Tg è in replica domani alle 23. Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina il governatore della Sicilia Schifani annuncia la proroga semestrale ma i medici si dicono perplessi. Prorogata al 31 luglio l'attività del reparto di Cardiochirurgia Pediatrica dell'ospedale San Vincenzo di Taormina da mesi al centro di proteste da parte dei comitati a loro fianco anche i sindaci del comprensorio schieratesi a difesa della divisione clinica che opera in convenzione con i bambini Gesù di Roma il cui destino sarebbe segnato dalla scelta di trasferire funzioni e competenze al civico di Palermo. Esulta il governatore Schifani e con lui l'assessore regionale alla salute Giovanna Volo perplessi gli operatori del centro medico di eccellenza che alla notizia di proroga si dicono dubbiosi in quanto alle mezzanotte di oggi a molti di loro scade contratto nello specifico tre cardiochirurghi ed altri profili professionali indispensabili nella gestione del reparto su cui pende come una spada di Damocle l'incertezza di una decisione definitiva che non consente di sviluppare una programmazione attraverso un adeguato piano sanitario si tratta di bambini che vanno seguiti nel tempo e le incertezze non aiutano a gestire i percorsi clinici dei piccoli pazienti lamenta la dottoressa Rosanna Zanai anestesista la quale ha presa la notizia della concessione di una proroga semestrale interpretando il sentire comune dei colleghi si dice amareggiata in quanto da dieci anni opera con contratti a scadenza che di fatto privano il personale sanitario di ogni possibilità di poter amministrare il proprio futuro professionale e personale ne abbiamo raccolto lo sfogo assolutamente no non siamo soddisfatti intanto perché ritengo parlo a mio nome sicuramente non mi posso prendere la responsabilità di parlare a nome di tutti però ritengo che sia un po' il sentire di tutto il reparto il presidente Schifani a novembre all'incontro con i genitori al quale ero presente anche io ha garantito che avrebbe chiesto una deroga al momento non mi risulta ci sia una richiesta di deroga noi abbiamo appreso stamattina della proroga intanto la proroga semestrale non ci può assolutamente rendere felici perché comunque anche in questo caso non c'è una programmazione il nostro reparto ha bisogno di una programmazione noi dobbiamo dare delle risposte ai genitori ai bambini perché come sappiamo l'abbiamo ribadito più volte sono bambini che vanno seguiti nel tempo quindi non si può assolutamente parlare di scadenze semestrali lo stesso vale per noi dipendenti che lavoriamo ormai qui da 10 anni da 12 anni e viviamo con la spada di Damocle del rinnovo semestrale e penso non sia assolutamente accettabile ripeto sia per una programmazione di vita personale ma se la vogliamo mettere da parte soprattutto per una programmazione di attività di reparto quindi non siamo assolutamente soddisfatti oltretutto ripeto la conferma di questa proroga è arrivata stamattina il 31 gennaio questo significa che noi fino a stamattina non sapevamo che cosa avremmo dovuto fare alla mezzanotte con i pazienti che abbiamo in reparto e con la scadenza dei contratti e con la scadenza dei contratti i miei colleghi cardiochirurghi hanno un contratto in scadenza stasera a mezzanotte che il ritengo ancora non sia stato rinnovato non penso abbiano avuto comunicazione di rinnovo non penso che nessuno di loro neghi l'assistenza ai bambini però capite bene che lavorare senza un contratto è veramente difficile noi al momento abbiamo il reparto di cardiologia completo al completo con bambini ricoverati in terapia intensiva abbiamo 5 pazienti di cui uno in assistenza a ECMO bambini operati fino a ieri e noi fino a stamattina fino a mezz'ora fa non sapevamo che cosa avremmo dovuto fare allo scadere della mezzanotte quindi non siamo assolutamente soddisfatti un giovane di 20 anni è stato trovato morto in casa a Bagheria siamo nel Palermitano la polizia è intervenuta dopo la telefonata della mamma che appena rientrata ha fatto la scoperta ha chiamato dunque soccorso è intervenuto il medico legale per l'ispezione del cadavere sul quale però non sarebbero stati almeno all'apparenza rinvenuti segni di violenza indagano comunque i poliziotti di Bagheria Maxi operazione antidroga a Palermo la guardia di finanza ha scoperto nascosta in un'autovettura 11 kg di cocaina la sostanza stupefacente è stata sequestrata un uomo di 27 anni è stato arrestato il corriere della droga stava procedendo tranquillamente alla guida dell'auto sulla 19 in direzione Palermo nascosti nella vettura c'erano ben 11 kg di cocaina allo svincolo autostradale di Buonfornello frazione di Termini Merese in provincia di Palermo in azione c'è una pattuglia del nucleo di polizia economico-finanziaria l'automobile viene fermata e scatta il controllo dei finanzieri i militari come prima cosa procedono alla identificazione del conducente che nel corso delle operazioni riferiscono le fiamme gialle si mostra particolarmente nervoso ed agitato l'atteggiamento dell'uomo spinge i finanzieri ad effettuare una perquisizione approfondita i due cani antidroga Anuk ed Eto del gruppo pronto impiego salgono a bordo immediatamente fiutano qualcosa si procede all'ispezione del serbatoio all'interno viene trovata la droga distribuita in 10 involucri avvolti in buste di cellophane trasparente per un peso complessivo di 10,9 kg di cocaina il corriere un uomo di nome Francesco Ravenda calabrese di 27 anni viene arrestato e portato nel carcere Paiarelli il GIP dopo la convalida dell'arresto dispone per l'indagato i domiciliari la droga proveniva dalla Calabria ed era destinata a finire nelle piazze di Palermo la cocaina qualora fosse stata immessa sul mercato avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per circa un milione di euro ad essere impegnati sul fronte della lotta lo spaccio di sostanze stupefacenti anche i carabinieri che hanno effettuato tre operazioni i militari del nucleo radiomobile hanno arrestato due pusher entrambi palermitani e sequestrato due chili di droga al villaggio Santa Rosalia all'interno di un garage grazie all'ausilio dei cani antidroga sono stati trovati 40 grammi di hashish e una bilancia di precisione insieme a svariato materiale per il confezionamento della droga i controlli sono proseguiti nel quartiere dell'albergeria lì i militari in un'area recintata hanno rinvenuto quasi un chilo di marijuana infine nel quartiere Ballarò i carabinieri della stazione di Piazza Marina hanno recuperato nascosti tra il verde pubblico oltre un chilo tra cocaina crack hashish e marijuana parzialmente suddiviso in dosi aveva allestito una folta piantagione di canapa indiana dentro un rudere nelle campagne di Belpasso incontrata segreta ma è stato arrestato dai carabinieri e dello squadrone riportato cacciatore di Sicilia dalla stazione di Belpasso l'uomo un 43enne già noto alle forze dell'ordine disoccupato residente a Iravina di Catania si era data al business illegale della coltivazione di sostanza stupefacente per farlo aveva scelto un fondo agricolo lontano dal centro cittadino pensando di essere anche lontano occhi indiscreti ma così non è stato ed invece la polizia ha fermato tre ospiti del centro permanenza per rimpatriati di Milo siamo nel Trapanese indagati per due incendi che hanno devastato la struttura sono due tunisini e uno marucchino i fatti risalgono al 22 gennaio scorso quando un gruppo di stranieri nel primo pomeriggio fece divampare le fiamme in alcuni locali della struttura in un primo momento a bruciare furono coperte cumuli di carta e plastica che vennero di fatto utilizzati come innesco poi materassi accadastati in precedenza di fatto il fumo invase la struttura nel giro di pochi minuti tre settori del CPR sono stati appunto di fatto resi inagibili dal fumo nero e tossico arrivarono i vigili del fuoco riuscirono a spegnere le fiamme ma nel frattempo la polizia aveva già acquisito le immagini di videosorveglianza che hanno consentito anche di individuare i responsabili votiamo pagina torna nuovamente l'allarme caro voli il presidente della regione intervenuto in una trasmissione radiofonica ha espresso preoccupazione sul rialzo delle tariffe aeree nel periodo pasquale si avvicina la Pasqua quest'anno cade il 31 marzo a lanciare l'allarme caro voli e nuovamente il presidente della regione Renato Schifani il governatore intervenuto in una trasmissione radiofonica si è soffermato sulla problematica del rialzo dei biglietti sotto le festività la regione siciliana sta portando avanti una battaglia fino a qualche mese fa le compagnie che trattavano la Sicilia erano solamente due ita e riener si era creato un duopolio abbiamo denunciato all'antitrust l'esistenza di un cartello allo stesso tempo stiamo attuando delle misure mirate ad aiutare le famiglie siciliane la regione con propri oneri sta realizzando una politica di sconti per le rotte verso Roma e il nord Italia sono preoccupato per i rincari a Pasqua le parole del governatore intervenuto nella trasmissione radiofonica giù la maschera su Radio 1 del registro con molta preoccupazione di nuovo l'aumento del carovoli in occasione della Pasqua quindi capisco che devo dire ne sono convintissimo dietro questo carovoli natalizio Pasquale eccetera c'è un'oppia speculazione ci siamo fatti carico di questo annoso problema in passato abbiamo posto davanti l'antitrust le nostre denunzie per il carovoli denunciando un cartello tra ita e l'antitrust l'ho fatto a Natale due anni fa perché erano due compagnie che secondo noi di intesa senza farsi concorrenza naturalmente tendevano i voli di rialzo abbiamo lavorato anche perché un terzo vettore l'Italia potesse Medina in Sicilia collegare la Sicilia con noi ci siamo riusciti e questo ci ha consentito di rompere questo cartello ma l'antitrust esternamente ha respinto il nostro ricorso in quanto sosterrebbe che per il cartello occorre un patto scritto tra due soggetti noi estenderemo gli sconti e porteremo avanti la battaglia sul carovoli ha detto Schifani il quale ha chiamato in causa anche l'Europa sostenendo che servirebbero maggiori contributi la Sardegna ha sottolineato il governatore essendo isola gode di contributi comunitari perché è considerata un territorio che paga una maggiore marginalizzazione per la Sicilia invece non è così questo perché la nostra regione è molto più vicina al continente non è considerata isola ha spiegato Schifani perché c'è una continuità maggiore con il resto dell'Europa se viceversa venisse riconosciuta anche la Sicilia da parte dell'Europa sarebbe un grandissimo risultato ieri abbiamo sentito nel nostro telegiornale il presidente regionale di Coldiretti che ha lanciato ha rilanciato l'allarme agricoltura in Sicilia da un lato quello che sta accadendo in tutta Europa le proteste contro le norme europee ma anche a livello nazionale gli agricoltori non sono allo stato attuale particolarmente felici ma in Sicilia la situazione è ancora più grave per via della siccità e l'allarme siccità viene rilanciato oggi dall'assessore regionale San Martino che chiede appunto lo stato di calamità Sicilia attenagliata dalla siccità a gennaio il quinto mese consecutivo che fa registrare precipitazione inferiore alla norma del periodo con un deficit di circa 200 millilitri d'acqua i volumi degli invasi siciliani sono sotto il livello di guardia con l'isola flagellata dalla siccità a lanciare l'allarme l'assessore all'agricoltura della regione siciliana Luca San Martino che sottolinea la preoccupante situazione con zone colpite da fenomeni di siccità estrema ed altre aree interessate da fenomeni di siccità severa evento questo che sta danneggiando gli agricoltori e gli allevatori già gravati dalle conseguenze dei fenomeni atmosferici anomali che hanno colpito l'isola per tutto il 2023 in particolare sottolinea San Martino l'allevamento degli animali è il settore più colpito per l'assenza di foraggio verde per questo motivo l'esponente dell'aggiunta regionale di governo chiederà alla presidente della regione Renato Schifani di dichiarare lo stato di calamità naturale per l'emergenza siccità lanciando un segnale concreto al comparto agricolo in evidente difficoltà la richiesta dello stato di calamità avanzata dall'assessore regionale dell'agricoltura è un segnale importante per il comparto agricolo attualmente in crisi tra l'altro risponde alle sollecitazioni che come Confederazione Italiana Agricoltori abbiamo avanzato tempo fa però tutto ciò non basta perché la perdurante siccità che ancora si ripercuote sulle campagne gli invasi che sono vuoti è una stagione rigua che rischia di non iniziare vi è la necessità di interventi concreti immediate di ristoro per le imprese agricole le quali sono impegnate a mantenere il territorio coltivato a poter portare sulla tavola dei consumatori mondiali cibi di qualità e proprio per questo hanno la necessità di essere sostenute da politiche regionali nazionali e soprattutto europee perché possa essere questa agricoltura valorizzata affinché non vi sia lo spopolamento e perché si affronti anche con un piano straordinario le emergenze che oggi ci sono quindi pianificare gli interventi affrontare le emergenze con scelte che devono essere compiute mettendo anche interventi finanziari in grado di poter affrontare quelle criticità e a proposito di si cita parliamo di acqua ma per altri versi perché si segliano problemi idrici a Trapani il comune ha infatti informato che i lavori per la posa della fibra ottica eseguiti dall'Enel avrebbero causato la rottura della condotta bresciana per questo la condotta è stata chiusa i lavori di ripristino sono stati già avviati nei giorni scorsi a causa di un altro guasto che aveva comportato la mancanza di pressione nelle condutture la città aveva subito un razionamento idrico vedremo se nelle prossime ore il regime d'acqua tornerà a regime nella condotta trapanese voltiamo pagina parliamo però di altro dunque di cronaca più precisamente un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri a Catania perché ha tentato una rapina ad un distributore di carburanti lungo un tratto di strada che va dal faro Biscari alla tangenziale deve rispondere di tentata rapina aggravata è giunto nell'area di servizio a bordo di un'autovettura di colore verde ha parcheggiato la macchina con la testa coperta dal cappuccio dal giubbotto mentre fingeva di incamminarsi verso il bar ha aggredito un dipendente armato di cacciavite gli ha intimato la consegna dell'incasso il dipendente ha però reagito e ingaggiato con il rapinatore una colluttazione la scena è stata notata da un altro impiegato che si trovava in ufficio è stato allertato l'1-1-2 i carabinieri sono arrivati sul posto mentre era in corso la colluttazione il 38enne ha tentato la fuga ma è stato bloccato dai militari il GIP ha convalidato l'arresto è disposto gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico illustrati questa mattina a Palazzo degli Elefanti a Catania i dettagli degli eventi del 3-4-5 febbraio parliamo della festa di Sant'Agato una festa dei forti canoni religiosi ma che ha anche devozione tradizione il sindaco ha confermato non salirà sulla carrozza del Senato non vuole sovvertire la tradizione ma vuole che il sindaco sia a contatto con la gente saliranno sulla vettura del Senato tre ragazzi vincitori di un concorso scolastico bandito appunto in occasione di Sant'Agata una grande festa di popolo una grande festa devozionale una grande festa tradizionale tutto è Catania tutto è Sant'Agata la grande macchina organizzativa di una tra le più grandi e imponenti feste religiose al mondo lavora a pieno regime per garantire da un lato il primario aspetto religioso dall'altro lato la corona ricca e variegata di eventi legate appunto ad Agata proprio questi ultimi sono stati illustrati oggi a Palazzo degli Elefanti dalla Comune dal Comitato per la Festa di Sant'Agata dalla Basilica Cattedrale confermati tanti aspetti tradizionali ma con delle garanzie di sicurezza che sono state definite inderogabili proprio per garantire il regolare svolgimento della festa tutto confermato a partire dal piano interno alla Basilica Cattedrale giorni cru delle festività agatine numero contingentato durante particolari momenti la messa dell'Aurora 3.000 persone il pontificale del 5 mattina 2.500 persone all'interno tutti potranno entrare da via Vittorio Emanuele con uscita da Piazza Duomo il piano redatto come ogni anno dall'ingegnere Filippo Di Mauro prevede anche i diversi protocolli in caso di incendio o di emergenza varia veniamo adesso all'esterno a partire dal giorno 3 mattina numero limitato di persone all'interno di Piazza Duomo per l'uscita della carrozza del Senato numero contingentato a sera per l'evento che avrà inizio alle ore 19.30 che poi si chiuderà con i fuochi del 3 numero controllato anche giorno 4 per la salita dei cappuccini la sera del 3 così come voluto dal comitato protagonista in Piazza Duomo sarà l'orchestra giovanile del conservatorio Vincenzo Bellini di Catania accompagnata dal coro lirico siciliano diretto dal maestro Francesco Costa gli innisacri poi una sorpresa alle 20.45 quindi i fuochi la messa dell'aurora purtroppo anche questa sarà contingentata per motivi di sicurezza così come sarà contingentata la salita dei cappuccini altro momento importantissimo quest'anno sarà di domenica sera quindi mi aspetto proprio lì il pienone e su quella ovviamente non posso dare orari perché come sapete gli orari del Fercolo ormai sono indefinibili altro momento sempre contingentato sarà il 5 il pontificale ed infine il 5 poveriggio l'uscita del Fercolo del 5 il sindaco Trantino ha confermato che non salirà sulla carrozza del Senato giorno 3 vorrà stare assieme alla gente per la processione è stato ribadito processione della cera non la vivo da sindaco non la vivo da primo cittadino la vivo da un catanese che per il ruolo che in questo momento ha è più fortunato rispetto ad altri a poter avvicinarsi alla Santa più di quanto non possono tanti altri catanesi in carrozza tre studenti catanesi che hanno primeggiato nell'ambito di un concorso su Sant'Agata e Catania si tratta della Sandro Pagliotta della Malerba di Chiara Costantino della Quintina Maiorana di Salvatore Ferlito della San Giovanni Bosco la festa di Sant'Agata è una festa di accoglienza e la città non è blindata ma la città si prepara ad accogliere fedeli devoti ospiti che vengono dalla Sicilia che vengono dall'Italia che vengono da altre parti del mondo e si preoccupa che tutti insieme guardiamo a Sant'Agata con gioia le norme le regole servono solo a questo quindi le accogliamo non perché ci schiacciano ma perché ci liberano ci rendono persone che possono stare bene insieme e godere del volto di Sant'Agata in serata in cattedrale la Santa Messa per e con le donne vittime di violenza preseduta dall'arcivescovo di Catania Renna ma se ci spostiamo dalla cattedrale andiamo un po' in giro per Catania ci soffermiamo stavolta per esempio alla villa di Catania dove si lavora a pieno regime al parco Bellini dove dopo domani mattina aprirà battenti Viva Sant'Agata 2024 la fiera allestita nel piazzale delle carrozze operaia al lavoro da questa mattina li vedete sul piazzale delle carrozze 1200 metri quadri su cui saranno allestiti gli stand di Viva Sant'Agata 2024 la fiera che torna alla villa Bellini di Catania dopo anni di attese e di collocazioni diverse che avevano allontanato uno degli eventi collaterali più apprezzati organizzati in onore della Santa Patrona del Capoluogo Etneo il taglio del nastro venerdì 2 dopo domani mattina quando i 50 operatori commerciali saranno attivi offrendo ai visitatori la possibilità di acquisti nei giorni della festa sino a tarda sera sul posto per un sopralluogo l'assessore alle attività produttive Giuseppe Gelsomino che spiega come nonostante i tempi stringati il comune si sia attivato per predisporre tutto nei minimi dettagli la villa e la fiera scusate avrà 50 espositori per noi comune è importante perché incassiamo quasi 11.000 euro ed è sempre importante incassare qualcosa e più che altro diamo anche la possibilità a questi commercianti di poter esporre la loro merce e cerchiamo sempre di creare sviluppo economico che non fa mai male si rispetta la naturale vocazione di questo polmone verde dunque niente area food ma ci sarà un'area dedicata ai più piccoli sì niente area food abbiamo deciso di concerto con il sindaco Enrico Trantino e la sovrintendente l'architetto Aprile abbiamo ritenuto opportuno di non fare nessun tipo di area food ma sicuramente ci saranno le zone per i bambini con delle piccole giostrine in modo tale che i bambini possano divertirsi e godere di questo bellissimo parco che è il Parco Bellini il 2024 segna per questa festa una vera e propria ripartenza anche per questo evento collaterale che torna alla villa dopo dieci anni sì torna alla villa ma non solo questo oltre l'evento che inauguriamo tra qualche giorno abbiamo grazie agli uffici che non smetterò mai di ringraziare perché hanno lavorato anche il sabbo della domenica ed è giusto dirlo abbiamo tantissimi torronai abbiamo i camion e i panini e a differenza di qualche anno abbiamo tantissime autorizzazioni abbiamo dato più di 100 autorizzazioni in modo tale che dimostriamo che il comune di Catania vuole la legalità vuole l'ordine poi sicuramente che abusivi ci saranno ma con il corpo della polizia municipale verranno verbalizzati però ci sono centinaia appunto di commercianti che sono regolari che hanno le licenze e che hanno il nostro permesso hanno pagato il suolo pubblico anche lì abbiamo incassato non pensiate che sia venale ma è giusto che noi come amministrazione pensiamo a rincastare per poter erogare al meglio i nostri servizi la fiera resterà aperta sino al 6 di febbraio quindi sino al giorno ultimo quando poi la santa farà rientro alla cattedrale quali sono gli orari di apertura? l'apertura l'apertura della fiera sarà dalle 9 di mattina fino a mezzanotte il 5 sicuramente non c'è un orario di chiusura perché diciamo per noi catanesi il 5 non si smette mai fino a quando torna la santa a catania a pochi mesi fa l'inizio dei lavori oggi la fine di fatto degli interventi di rifacimento e pulitura della facciata della rinnovata chiesa di San Giuseppe alla Duomo diventerà polo centrale culturale a pochi passi da Piazza Duomo dal municipio della cattedrale gli interventi di pulizia dell'apparato lapideo nonché il rifacimento degli intonaci hanno avuto inizio alla fine dello scorso anno in tempo per la grande festa di Sant'Agata si sono chiusi così come da programma questa è la chiesa di San Giuseppe al Duomo siamo a pochi passi appunto da Piazza Duomo dal municipio della cattedrale una impresa di Adrano la Bertolone Costruzioni SRL ha eseguito gli interventi di restauro che erano stati commissionati dalla SRL Catania Pulcheri ma un ente voluto dall'arcivescovo Luigi Renna che ha come finalità la promozione del turismo religioso nella diocesi di Catania la gestione di eventi culturali nonché i lavori di sistemazione nelle chiese del centro storico questa mattina giù il telone è finalmente visibile la rinnovata facciata per ora solo della facciata perché nei prossimi mesi sarà aperto anche l'interno già da un decennio questa chiesa era stata adibita ad auditorium e al luogo per le mostre del museo diocesano quindi data la vicinanza di tanti altri luoghi di culto si è pensato di destinarla appunto a queste attività culturali per ora grazie all'intervento della ditta Bertolone che ha offerto il restauro e all'interessamento del responsabile Don Massimiliano Parisi unita all'abadia diventerà un luogo culturale che accoglie pellegrini e turisti che di qua potranno avere una prospettiva di tutto ciò che si potrà visitare quindi sarà restituita anche prima dell'estate anche l'aula interna che diventerà un auditorium ripeto perché ci sono già tanti luoghi di culto e quindi la liturgia è già assicurata è una chiesa molto bella settecentesca 1780 faccio notare che nell'ovale nella parte superiore c'è D.O.M. D.O.P. Timo Maximo l'antica dedicazione che era rivolta diceva che la chiesa è dedicata soprattutto a Dio con un titolare che è San Giuseppe e adesso noi ci riprendiamo qualche istante di pausa pubblicitaria linea alla regia questa sera Manuela Musumeci e Fulvio Ferrauto ci rivedremo subito dopo gli spot nuovamente in studio non ci sono notizie dalla redazione chiudiamo il giornale con il meteo e domani si entra nel mese di febbraio e nell'isola sarà a sole praticamente ovunque nella nostra regione qualche addensamento nella parte tirrenica ma non dovrebbe piovere i venti saranno deboli i mari quasi calmi poco mossi le temperature adesso saranno stazionarie sia le massime che le minime attenzione al mattino per le gelate nelle parti centrali della nostra isola con il meteo noi ci fermiamo termina qui questa edizione del nostro telegiornale prossimo appuntamento con RATG domani alle ore 14 grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata a voi tutti grazie per la vostra